Brucia ancora la provincia di Arezzo. Sabato pomeriggio un rogo si è sviluppato a San Zeno, sulle colline nei pressi del sentiero della Bonifica, ha interessato alcuni ettari di vegetazione. L'allarme è partito attorno alle 16.30, si è alzato in volo anche l'elicottero della regione toscana. A lavoro i vigili del fuoco di Arezzo per mettere in sicurezza l'area vista la vicinanza del rogo ad alcune abitazioni. Nella mattinata di sabato attorno alle 12 era stato domato un altro incendio alle porte di Arezzo, scoppiato nelle campagne tra Santa Andrea Pigli e Gorello. In fumo sono andati due ettari tra Oliveto e Sterpaglie. Ci sono volute un paio di ore per far tornare la situazione sotto controllo e successivamente sono partite le operazioni di Bonifica.